Il benvenuto del sindaco di Torino, avvocato Peyron, ai partecipanti al 12esimo congresso internazionale della Federazione Internationale des Clubs de Publicité. Ai congressisti parla anche l'onorevole Giacchero. Dopo il discorso del presidente della federazione, signore Hinke Feber, il quale ha illustrato gli scopi del congresso, la prima giornata dei lavori si chiude con la visita a uno stabilimento industriale torinese. Gli ospiti si interessano vivamente alle varie fasi della produzione e seguono con attenzione il complesso lavoro delle numerose macchine. E quando al termine della visita si giunge al rituale drink, non vi è chi non brindi soddisfatto alle fortune del congresso.